... Morto l'operaio precipitato dal tetto, stava eseguendo lavori per una dita esterna in uno stabile di Elfoundry. Incontro sull'edilizia scolastica, vagliate varie ipotesi sul futuro della primaria Giovanni XXIII di Avezzano. Tirocirio formativo per meccatronici, riconoscimenti per i primi 14 allievi del corso. Ampliato lo stabilimento Dompè, dal 1993 investiti 250 milioni di euro. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Cronaca è morto all'ospedale dell'Aquila a causa delle ferite riportate l'operaio di una ditta di Cesena che ieri è precipitato da un lucernaio mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione in uno stabile all'interno del Elfoundry. Il lavoratore Sebastiano Marco Aielli, di 55 anni, di Siracusa, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila in Elisocorso. In tarda serata è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale. Le indagini sono state eseguite dagli agenti del commissariato e dall'ispettorato del lavoro che hanno effettuato un sopralluogo per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, Roberto Savelli, ha aperto un fascicolo per far luce sull'accaduto. L'uomo stava sistemando della guaina sul tetto della struttura dove viene prodotta energia elettrica. Uno sciopero è stato attuato oggi da FIOM CGL. Anche la FIMCISL, ad ogni livello, oltre ad essere vicina alla famiglia dell'operaio, ha stigmatizzato la questione di sicurezza proclamando due ore di sciopero. La Polizia di Stato dell'Aquila ha rinvenuto la rifruttiva rubata dai giorni scorsi all'assessore comunale dell'Aquila, con delega alle politiche culturali e turismo, presso lo stadio comunale Gran Sasso di L'Aquila. Lo stesso assessore aveva presentato una denuncia di furto della propria borsa, avvenuta nel corso di una manifestazione sportiva presso lo stadio. Il malfattore, probabilmente approfittando della confusione che si era creata al momento della premiazione dei giovani partecipanti, si era appropriato della borsa allontanandosi frettolosamente. Il personale della squadra volanti e del gabinetto provinciale della Polizia Scientifica immediatamente hanno provveduto a visionare i filmati registrati dalle telecamere presenti allo stadio e dopo un meticoloso lavoro sono riusciti a risalire alla targa dell'automobile degli autori del reato. È stato così possibile risalire ai componenti di una famiglia romana presente allo stadio per accompagnare il figlio iscritto alla competizione sportiva. Per questo motivo è stato richiesto alla Procura della Repubblica dell'Aquila un decreto di perquisizione da eseguire presso l'abitazione dei presunti responsabili del furto ubicata nella zona est della capitale. La perquisizione effettuata nei giorni scorsi dal personale della Polizia di Stato in servizio nella capitale ha permesso di rinvenire la borsa e gran parte degli oggetti rubati che sono stati riconsegnati alla legittima proprietaria. I responsabili sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Si è tenuto nel Comune di Avezzano un incontro tra l'assessore comunale all'edilizia scolastica Chiara Colucci affiancata dal dirigente del settore quarto l'architetto Sergio Pepe con la maggioranza per bagliare le diverse ipotesi sul futuro della scuola primaria Giovanni XXIII di via Di Lorenzo, ex via delle industrie. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Cipe, ha già assegnato al Comune di Avezzano un finanziamento per la progettazione del documento sismico dell'edificio pari a 300 mila euro. L'intero intervento prevede un importo totale di 3 milioni di euro. L'assessore Colucci, chiarisce in una notte del Comune, ha predisposto un lavoro di condivisione di scelte in modo da vagliare due diverse soluzioni, o demolire e ricostruire la scuola sul sito in cui è attualmente presente, oppure, data la dimensione ridotta del sito, delocalizzare la scuola in altra area con l'obiettivo di creare poi un istituto comprensivo completo. La maggioranza consigliare ha avviato un confronto su entrambe le ipotesi e, a seguito di una decisione definitiva, si passerà alla redazione degli atti ufficiali. L'On. Giuseppe Bellachiova, segretario regionale della Lega in Abruzzo, è il nuovo capogruppo del partito alla Commissione Bilancio, Tesore e Programmazione della Camera dei Deputati. Un ruolo chiave, sia in vista degli importanti provvedimenti che dovranno interessare i territori regionali, sia per la politica complessiva che il movimento intende attuare in favore degli italiani. Sarò particolarmente attento alle esigenze dell'Abruzzo e degli abruzzesi, sottolinea l'On. Bellachiova. In questo momento c'è una forte necessità di sostegno e buone pratiche politiche che siano di real impulso per un rilancio dell'economia. Un rilancio che dovrà servire a creare nuova occupazione in ogni settore imprenditoriale. Senza dimenticare, conclude, le necessità di tutta quella ampia fetta di abruzzesi, ancora drammaticamente in difficoltà in seguito ai due terremoti che hanno gravamente colpito la nostra terra. Lavorerò con l'impegno di tutti, ma la mia presenza sarà più forte al fianco di chi oggi ha più bisogno. I primi 14 meccatronici della regione Abruzzo hanno concluso il torlicino formativo che si è tenuto ad Avezzano. Primato abruzzese, targato con Api l'Aquila, che attraverso il gruppo Sicurform, l'ente di formazione accreditato dalla regione Abruzzo, ha concluso il percorso formativo per i primi 14 meccatronici della regione. Un totale di 500 ore, suddivise in 250 in aula, 100 in parte pratica ed altre 150 ore di tirocidio formativo all'interno di alcune delle principali concessionarie del territorio della provincia dell'Aquila. Una bella soddisfazione che speriamo si tramuti in nuove opportunità occupazionali, ha dichiarato il Presidente del Conapi l'Aquila e direttore responsabile del gruppo Sicurform Rosa Pestilli. Sono stati mesi intensi dove i discenti hanno avuto modo di essere i protagonisti di un percorso altamente formativo che gli consentirà di accrescere le professionalità e metterle al servizio delle loro attività, aprendo magari a nuovi orizzonti nel mondo del lavoro, grazie al diploma ottenuto. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al connubio di interrelazioni tra istituzioni pubbliche e private e con la collaborazione di una squadra forte che è arrivata al raggiungimento dell'obiettivo. La figura del tecnico meccatronico delle autoriparazioni è molto richiesta e coniuga le discipline della meccanica, l'elettronica e l'informatica al fine di automatizzare i sistemi di produzione per semplificare il lavoro umano. La prova della riuscita del corso ha aggiunto la Pestilli, è stata anche la valutazione data dai quattro ispettori esterni che hanno giudicato in maniera brillante l'esame sostenuto dai partecipanti. In particolare, la Commissione ha deciso di concedere una nota di merito a Manfredo Ancelosante per le capacità pratiche, teoriche, comunicative e di innovazione. Ascoltiamo al riguardo proprio la dottoressa Rosa Pestilli. Siamo con la dottoressa Rosa Pestilli, Presidente del Conapi Augla e Direttore del Gruppo Sigur Forma. Torniamo a parlare di un'iniziativa importante che avete attuato, ne abbiamo parlato quando avete presentato. Oggi invece siamo alla fase conclusiva. Puoi ripilogarci un po' di cosa stiamo parlando? Sì, come con Api Augla, ricordo, io ne sono il Presidente, è un'associazione sindacale datoriale che è nata da circa tre anni sul territorio di Avezzano e provincia dell'Aquila. Dopo un'attenta analisi del fabbisogno per tutte le aziende territoriali, si è rilevata la necessità di formare dei tecnici meccatronici delle autoriparazioni. Per cui siamo stati il primo ente e a tutt'oggi siamo ancora l'unico ente della Regione Abruzzo ad aver accreditato il percorso formativo, grazie al connubio con Gruppo Sigur Forma Sede di Direttore di Nazione, di 500 ore. Questo percorso formativo, ricorderete bene, è stato attivato a dicembre, era suddiviso in parte teorica e parte pratica, quindi 250 ore di teorie in aula, 100 ore di parte pratica e 150 ore di parte di tirocinio formativo all'interno delle più grandi concessionarie, quindi ricordiamo il gruppo Toyota, quindi di Di Marco e Select Car Land Rover di Avezzano. Grazie a questo connubio di interrelazioni tra istituzioni pubbliche e private, e quindi siamo riusciti a concludere ad oggi, abbiamo l'esame regionale, c'è una commissione appunto di 5 membri, l'esame sarà di 40 domande, quindi parte scritta e poi ci sarà una parte teorica, quindi speriamo di portarlo a termine e che ci siano nuovi posti di lavoro per questi nostri discenti. Un motivo di soddisfazione per voi per aver attivato l'unico corso in Abruzzo, o mi sbaglio? Sì, non è stato solo l'unico corso, perché noi nel mese di dicembre abbiamo avuto ben sette percorsi formativi, perché c'erano sia le 40 ore, le 50 ore. Abbiamo concluso il percorso formativo delle 100 ore, per quanto riguarda i ragazzi dell'ITIS, dell'industriale, ringraziamo ancora una volta per la fiducia che ci ha dato appunto la preside Manzi. E poi abbiamo attivato anche un ulteriore percorso formativo delle 500 ore, che terminerà con l'esame finale regionale il prossimo 30 luglio. Sono preparati gli studenti lavoratori. Beh, noi sì, diciamo che sono molto preparati, certo è stato un percorso lungo, faticoso. Il nostro motivo di orgoglio è quello, a prescindere dall'ente di formazione, ma come associazione di categoria, aver collocato già diversi corsisti. Mi spiego meglio. Chi aveva già l'attività, quindi ha avuto modo di aggiornarsi e di proseguire, quindi casomai veder passare la propria attività da padre in figlio, con i requisiti di meccatronica e non prendere una terza persona, assumerla per poter mantenere quei requisiti e quindi creare appunto questa opportunità, diciamo che è quello che oggi viene detto in termini tecnici, autoimprenditorialità. Dall'altra parte invece abbiamo collocato proprio dei ragazzi, dando una possibilità a chi non ha voluto proseguire gli studi, di prendersi una qualifica professionale e di trovare lavoro all'interno del territorio marzicano. Dobbiamo ricordare che è un adempimento previsto dalla legge? Sì, assolutamente, è un adempimento previsto dalla legge. Per quanto riguarda le attività genessere c'è stata una famosa proroga per i cinque anni per tutte le aziende che non si sono ancora adeguate all'aggiornamento professionale, ma io spero che questo sia soltanto un inizio della formazione 4.0 perché sa benissimo che c'è questa nuova rivoluzione industriale per cui l'aggiornamento professionale continuo e costante anche a livello di innovazione tecnologica è fondamentale per vedere anche piccoli artigiani di andare avanti con la propria attività e non vedersela chiudere per un mancato aggiornamento. Voi siete sempre impegnati all'avanguardia per quanto riguarda le nuove leggi e le nuove tecnologie? Assolutamente, in questo momento grazie al Conapi l'Aquila e ai centri di ricerca ci stiamo occupando appunto di trasformare in 4.0 le aziende sia agroalimentari che industriali del nostro territorio per poter recuperare quello che è il credito d'imposta ma anche per aprirsi a quelli che sono i mercati esteri e stiamo facendo veramente una rete importante anche con tutte quelle associazioni degli enti del terzo settore e anche con gli stessi comuni della Marsica. Possiamo dire per concludere che dopo diversi anni di impegni state raccogliendo poi i frutti sperati? Beh, assolutamente, noi siamo una grande squadra siamo tutte persone che comunque hanno esperienza nel settore sia con competenze professionali ma diciamo che quando c'è voglia di fare e si crea quello che è un vero gruppo di lavoro abbiamo tanto ancora da fare ecco, ce lo auguriamo soprattutto. Grazie ad un investimento di ben 30 milioni di euro l'azienda biofarmaceutica Donpei dell'Aquila ha inaugurato l'ampliamento del sito produttivo e di ricerca e sviluppo l'ampliamento di ulteriori circa 9.000 metri quadrati porta a 250 milioni di investimento complessivo dal 1993 anno in cui l'azienda si è insediata all'Aquila in uno spazio produttivo che si estende su una superficie totale pari a 157.668 metri quadri di cui 36.200 dedicati ai laboratori di ricerca la produzione, il magazzino, i servizi generali e gli uffici amministrativi la cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi alla presenza tra gli altri del patron Sergio Donpei il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia il presidente di Farmindustria Massimo Scabarozzi e del direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia Stefano Gustinici all'evento sono intervenuti anche il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e il vice presidente della giunta regionale Giovanni Lolli l'intervento che sfacerà in altre assunzioni ha riguardato la realizzazione di nuove aree comprendenti un edificio di quattro piani dedicato al processo produttivo di granulati ricoperti un edificio di tre piani destinato al confezionamento di un nuovo magazzino il sito dell'Aquila specializzato nella produzione di farmaci di sintesi e di principi attivi biotecnologici raggiunge così una capacità produttiva a regime di 50 milioni di confezioni l'anno la cosa più importante ha detto Sergio Donpei è che questo è un percorso iniziato 25 anni fa oggi festeggiamo questa ricorrenza all'Aquila e lo facciamo con un bilancio di quello che è stato fatto e dell'occupazione qualificata che è di circa 250 persone che sono qui e che lavorano più del 90% laureati o diplomati la regione Abruzzo è terz'ultima nella statistica degli arrivi di turisti stranieri in Italia se ne è parlato in un convegno a Pescara destinazione Abruzzo questo è il tema del convegno tenutosi stamane a Pescara per promuovere l'offerta turistica integrata nella nostra regione valorizzandone i punti di forza e riducendone le criticità con l'intento di garantire attrattività competitività e dinamicità anche alla luce delle mutevoli esigenze di mercato in continua evoluzione nutrito è il parterre tra i relatori l'assessore al turismo Giorgio D'Ignazio il direttore del dipartimento turismo Francesco Di Filippo il presidente d'Italia Brand Group Mauro Di Rosa il coordinatore del progetto d'Italia Brand Group Alberto Mina la società che ha curato per conto della regione il documento strategico sul quale prende le mosse il nuovo piano triennale Francesco Tapinassi dirigente del Ministero dei Beni Ambientali ed il direttore esecutivo dell'ENIT Giovanni Bastianelli nel report elaborato nel 2016 dalla società Italia Brand Group si legge che l'Abruzzo è terz'ultima nella statistica degli arrivi di turisti stranieri in Italia nello stesso documento si legge che dal documento dei clienti nelle strutture ricettive emerge che l'Abruzzo è visitata soprattutto da turisti locali o delle regioni prossime come Lazio, Campania e Puglia secondo le stime del settore turismo della regione in Abruzzo il PIL turistico pesa per l'8% nel lavoro si sottolinea anche l'importanza rivestita dalla formazione continua delle risorse come chiave di successo dell'offerta turistica abruzzese ora le interviste con destinazione a Abruzzo dunque la regione si uniforma a quella che è la politica strategica nazionale adotta uno strumento di programmazione regionale con la partecipazione anche degli altri attori del territorio beh sì è assolutamente questo il punto è molto interessante perché vuol dire che quel metodo con cui abbiamo costruito il piano nazionale è calato nei territori la regione Abruzzo ha partecipato in maniera molto attiva alla costruzione del piano nazionale e lo ha fatto anche nelle veste di coordinamento di tutti gli assessorati al turismo di tutte le regioni italiane quindi un ruolo molto importante a livello nazionale è un piacere quando come dire le istituzioni riescono a dare quel messaggio concreto del lavorare insieme e in cooperazione che va ben al di là dei frazionamenti di competenze che invece in modo condiviso sceglie da che parte vuole andare il paese qual è la competitività dell'offerta italiana e coerentemente costruisce piani di strategia che sono poi un po' la diciamo il fil rouge che serve a tutti operatori pubblici e privati nei loro territori per determinare intelligenti pratiche di condivisione di scelte strategiche generali Assessore D'Ignazio con destinazione Abruzzo si segna un nuovo inizio della strategia di promozione turistica della regione Sì c'è un inizio in cui si va a proporre una terra tutta insieme una terra che fa sistema una regione intera che offre tutto tutti i tipi di turismo un turismo lento un turismo sportivo con un'ippovia più grande d'Europa e una pista ciclabile più grande d'Europa con una montagna bellissima un mare bellissimo con nove bandiere blu con dei laghi con ville antiche con offerte diciamo di castelli un'enogastronomia fantastica abbiamo fortezze tutto quello che il turista può venire qui e visitare e non annoiarsi mai conosce una natura che è una scoperta l'Abruzzo è una regione da scoprire i turisti che da noi vengono dicono sempre Dio ma io non me lo aspettavo che l'Abruzzo fosse così bello quindi puntare da trasformare una debolezza in punto di forza diventare e scoprire l'Abruzzo come punto come forza nella sua diciamo scoperta scoperta giornaliera le immagini del nostro Abbruzzo che vanno in tutte le province sia quindi un'aggredire tra virgolette in maniera buona quella che è l'offerta nazionale ma anche l'offerta internazionale verso Noverotte che noi vogliamo portare qui in Abruzzo abbiamo per fortuna un rapporto grande con tutte le istituzioni con tutti coloro che comparteciano alla realizzazione della politica turistica della regione Abruzzo e questo è Destinazione Abruzzo per i prossimi anni avremo tracciato una linea che sarà quella di vincere la sfida di riportare i turisti a prima degli eventi drammatici ma anche a recuperare di più rispetto ad altre regioni Direttore quali sono i punti di forza di questa nuova strategia di promozione turistica dell'Abruzzo? In un settore che presenta forti cambiamenti come quello del turismo ovviamente bisogna affrontarla sicuramente con la programmazione promozione organizzazione investimenti all'interno di una strategia con un cronogramma ben preciso il posizionamento quindi l'identità il brand da definire al più presto in maniera condivisa l'analisi dei dati l'uso dei dati dei big data ormai assolutamente improcrastinabile così come la costruzione di un ecosistema digitale a supporto di tutta l'attività e anche per coprire uno dei difetti dei ritardi maggiori dell'Italia e dell'Abruzzo ovviamente su queste cose già abbiamo e stiamo facendo molte attività bisogna solo metterle insieme e metterle all'interno di una programmazione fondamentale la collaborazione degli operatori senza i quali ovviamente nessuna politica nessuna attività organizzativa e amministrativa può avere successo conferenza stampa di presentazione della sesta edizione del circuito di Avezzano la manifestazione per autoscoperte e sport barchetta che quest'anno animerà la città di Avezzano nell'ultimo weekend di giugno l'evento è in programma per venerdì 29 giugno sabato 30 e domenica primo luglio la manifestazione che ogni anno porta ad Avezzano migliaia di persone nel 2013 ha preso il nome di circuito di Avezzano ereditando la tradizione della storica Targa Presider e prima ancora della Coppa di Lorenzo e del Trofeo Micangeli istituzionalizzata dal Comune al patrocino del Ministero dei Beni Ambientali che nel 2016 le ha riconosciuto meriti di promozione turistica e paesaggistica del territorio abruzzese del Consiglio regionale della Fondazione Cali e di numerosi sponsor privati la conferenza stampa si terrà nella sala consigliare del Comune di Avezzano mercoledì 27 giugno alle ore 11 e 30 tutto pronto a Magliano dei Marsi per la grande festa patronale dedicata a Santa Lucia e ai Santissimi Giovanni e Paolo una edizione quella curata dal Comitato Feste Magliano dei Marsi classe 68 che ha preso il via oggi nel corso di quattro giorni di festa accanto alle peculiari funzioni religiose storia fotografia spazio giovane ed arte sport spettacoli musica d'autore varietà oggi la festa è stata inaugurata con la mostra la grande guerra allestita nella cappella votiva dedicata ai caduti di tutte le guerre in memoria della vittoria nel conflitto del 15-18 in cui quest'anno ricorre il centenario nell'allestimento a cura di Flaviano Fiasca in collaborazione con l'amministrazione comunale e del gruppo Alpini di Magliano si possono ammirare le riproduzioni messe a disposizione dal museo della battaglia di Vittorio Veneto e di documenti d'epoca a seguire mostra degli elaborati realizzati dalla classe prima A prima B seconda A e seconda B della scuola secondaria di primo grado di Gironamo sulla vita dei santi protettori nella serata di venerdì musica con la band Coverland che proporrà i successi di artisti nazionali ed internazionali solidarietà in piazza San Luigi Orione nella mattinata di sabato 23 con l'autoemoteca del gruppo Fratres a disposizione di quanti vorranno effettuare una donazione di sangue il club delle feste targate il comitato classe 68 si apre alle 8 di domenica 24 con la gara di pesca al laghetto La Fornace pomeriggio di divertimento puro per tutti i bambini con lo spettacolo colombaioni e dinosauri show in programma per le ore 16 nel piazzale antistante il comune gran finale con la PFM in concerto e fuochi pirotecnici L'associazione di promozione sociale CSA Comitato Sorellanza Attiva di Avezzano organizza il Memorial Franco Cardilli direttore responsabile del pronto soccorso di Avezzano prematuramente scomparso un anno fa l'evento esiterà il giorno 23 giugno dalle ore 15 alle ore 20 presso la sala convegni picchi di Palazzo Torlonia con la collaborazione della Croce Rossa di Avezzano della Prologue di Avezzano dell'Ampas Abruzzo e della Misericordia l'organizzazione ha ottenuto i patrocini del Comune di Avezzano della Presidenza del Consiglio regionale e della Croce Rossa italiana nazionale l'evento ospiterà un convegno dal titolo medicina e sport riguardante l'urgenza medica nello sport amatoriale e l'educazione sanitaria e sportiva presenti i medici relatori De Ciantis il defibrillatore del pronto soccorso sportivo Coletta nozione di primo soccorso nei traumi da sport Farina la gestione delle lesioni muscolotendine e osteoarticolari nello sport danese il ruolo dell'infermiere nei traumi da sport bene ora prima dei saluti ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 dove è possibile vedere anche i servizi realizzati nel corso degli ultimi anni ora vediamo vi lasciamo alle previsioni del tempo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale Salve e ben ritrovati all'aggiornamento meteo su Antena 2 come possiamo notare dalla nostra immagine grafica purtroppo dopo i temporali di calore che stanno tuttora interessando le nostre zone interne montuose appenniniche che cosa succederà a un fronte freddo e temporalesco interesserà le regioni settentrionali in particolare le regioni di nord-est e il resto del versante adriatico soprattutto il medio versante adriatico maggiormente coinvolte le regioni Veneto Marche Abruzzo Molise Puglia Garganica per quanto concerne la previsione meteo per la nostra regione Abruzzo possiamo notare i simboli di instabilità sulla fascia adriatica e collinare questi temporali riusciranno ad interessare anche il resto del parco nazionale del Gran Sasso raggiungendo localmente l'Aquilano e il Chietino questi rovesci temporali saranno particolarmente intensi sulla costa adriatica abruzzese prestare attenzione per quanto concerne le temperature massime saranno in aumento su tutta la nostra regione Abruzzo invece i venti più freschi di origine polare che soffieranno successivamente faranno scendere notevolmente le temperature minime su valori quasi autunnali si tratterà di un refrigerio temporaneo l'indice raggi ultravioletti sarà compreso tra i 7 e i 5 indice UV le temperature massime come possiamo notare dall'immagine successiva vedete comprese tra gli 8 e 9 gradi nella notte al primo mattino sulle nostre zone interne collinari tra i 14 e i 13 gradi sulla costa adriatica grazie per la cortese attenzione e arrivederci attenzione 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 Grazie.